per lui, eppure migliore gara in stagione, proprio gara 1 contro Varesi, 8 punti in 14 minuti, 4 su 6 da 2 e 6 rimbalzi, due sole volte in questa stagione in quintetto, ma in doppia cifra e sarà fondamentale il suo aiuto. Qui Venezia rientra bene dal time out ed è un segnale importante. Il campo che sta producendo dal punto di vista difensivo e anche in attacco ha cominciato a farsi trovare pronto. Clark controlla un pallone complicatissimo, poi complica la vita tra l'altro il suo compagno è Cuba Diavara che senza ritmo, trova però una tripla non importante, fondamentale, tutto il talento di Cuba Diavara. Usare le qualità che sicuramente non gli mancano. Diavara in post basso, si rinnova il duello con il capitano Ebiere, bravissimo nell'uso del piede perno Diavara che si allunga fino all'appoggio del ferro. Questa è già la seconda situazione. Infrazione di passi, giustissima chiamata degli arbitri. Tre falli commessi, 11 punti per il capitano di Varese. Va a realizzare il primo libero a disposizione. L'anno scorso tra l'altro qui a Varese, miglior stagione in Italia per lui. Va per la doppia cifra con i liberi a disposizione, Iacuba Diavara trova il primo che lo fa arrivare nel suo personale tabellino. Non sta tirando in modo particolarmente preciso. Pochi, è anche vero che ad esempio Venezia su questo particolare ha lavorato molto bene perché l'ha sempre raddoppiato, l'ha costretto a rigiocare la palla fuori. Diavara intanto, scusa Charlie ma questo merita veramente di essere commentato. Di tabella ce l'ha, ce l'ha questo tiro. Diavara, è un canestro da 3 NBA questo. E qui tutta la bravura di Iacuba Diavara. Molto complicato questo tiro, con il corpo che usciva rispetto alla linea del tiro libero. Passa l'indietro con il tabellone cercato. Iacuba Diavara. Però è al primo libero sbagliato nella sua partita. Non ha fatto nient'altro che applicare quelle che sono a disposizione per loro. Quarto fallo subito, quinto recupero della partita di Kitty Clark. in doppia cifra con 11 punti e anche 3 assist. Palla fuori per Diavara, molto importante se dovesse entrare. Togliete pure il se dovesse entrare perché questa palla entra e vale il meno 3.